Grazie Presidente, oggi illustro una mozione che è stata depositata molti mesi fa nel 2020 verso la fine dell'anno scorso che in un certo senso ha anticipato su alcuni punti e su alcune questioni i dibattiti che oggi si stanno svolgendo in Assemblea, non solo che si sono svolte in Assemblea Capitolina ma anche alla Camera dei Deputati. La mozione ripercorre e traccia una strada molto chiara su quello che dovrebbe essere non solo la questione che abbiamo affrontato in quest'Aula legata ai poteri per Roma. In realtà questa mozione tratta un tema parallelo ma che riguarda l'ordinamento di Roma capitale e nello specifico quale dovrebbe essere l'assetto costituzionale idoneo per far fronte a quelle che sono le esigenze di una capitale. In questi termini abbiamo ripercorso tutti quelli che sono stati gli atti rilevanti e principali che hanno dettato un po' su questo tema i lavori dell'Assemblea Capitolina. Quello che è la conclusione ragionata di questa analisi in relazione alla possibile strada dell'ordinamento di Roma capitale è quella di individuare come assetto quello della città-stato o città-regione e quindi di conferire non solo una potestà regolamentare a Roma capitale ma soprattutto una potestà legislativa e quindi di conseguenza individuare a livello costituzionale quindi anche con una revisione ovviamente della nostra carta forme e condizioni particolari di autonomia secondo uno statuto speciale da adottare con legge costituzionale. Si tratta di un percorso che in questo momento è oggetto anche del dibattito da parte della Camera dei Deputati dove ci sono sono presenti diciamo diverse proposte di legge alcune della revisione appunto quella così definita sui poteri speciali che entra nel merito probabilmente più di una disciplina di revisione se vogliamo dell'ordinamento di Roma capitale ma a costituzione invariata e quindi con una legge ordinaria e dall'altra parte invece alcune proposte che invece entrano più nel merito della revisione della nostra carta. Sicuramente Roma ha la necessità di dover essere paragonata e parificata, avere gli stessi strumenti delle altre capitali europee e mondiali ma per poter essere allo stesso livello delle altre capitali europee non è diciamo sufficiente il dibattito o comunque non può definirsi concluso questo dibattito attraverso un intervento esclusivamente ordinario seppur magari potrà essere una strada come dire importante e un passo avanti rispetto a quello che è l'attuale assetto ma bisogna guardare al di là e soprattutto tracciare una visione della città ed accompagnarla nel futuro. Questo è possibile soltanto individuando un assetto dell'ordinamento di Roma capitale in questo caso noi lo individuiamo appunto con una potestà anche legislativa attraverso forme e condizioni particolari di autonomia. Questo è già diciamo un perimetro che la nostra carta costituzionale individua per alcune regioni ad esempio a statuto speciale e quindi nulla impedisce in un certo senso al legislatore di poter individuare uno statuto speciale anche con legge costituzionale per Roma. In questi termini diciamo l'assemblea capitolina se andrà a votare questa mozione si potrebbe quindi rafforzare quel percorso in questo momento che è in discussione anche all'interno del Parlamento e cercare di tracciare una rotta sulla revisione della nostra carta costituzionale. È evidente che se noi andiamo a verificare quelle che sono oggi ad esempio l'assetto della città di Berlino ci ritroviamo una città che ha concorrono in un certo senso o meglio coincidono in capo ai medesimi organi di governo delle funzioni non solo mettiamole così con un parallelismo regolamentari ma appunto anche legislative quindi una città regione che di conseguenza ha una serie di strumenti ulteriori rispetto a quelli che effettivamente sono riconosciuti dagli altri enti. Quindi in questi termini la nostra proposta cerca di dare la possibilità a quest'aula di dibattere e di discutere e di formulare un indirizzo molto chiaro perché nel corso di questi anni l'assemblea si è interrogata e ha formulato indirizzi prevalentemente sulla legislazione ordinaria. Ne abbiamo citati alcuni, uno su tutti ovviamente quelli ad esempio sulla trasformazione urbana e quelli ovviamente della revisione del piano regolatore generale che sicuramente necessita di un intervento anche quello da un punto di vista legislativo. Concludo dicendo che la proposta non vuole cancellare il lavoro che è stato già discusso e già dibattuto, in realtà vuole andare a rafforzare e soprattutto a garantire che la posizione legata alla revisione della nostra Costituzione e quindi di dare un'autonomia speciale a Roma Capitale possa effettivamente avviarsi. Un atto di questo tipo dal mio punto di vista ancora non è stato approvato o comunque sottoposto al dibattito dell'assemblea capitolina e oggi attendo quindi da questo punto di vista anche gli interventi degli altri gruppi per ovviamente discutere su questi temi e verificare se si potranno raggiungere delle convergenze anche ampie da poter formulare un indirizzo e poi poterlo trasmettere diciamo al Parlamento. Grazie.